Il tema che è venuto in questi, poi io non lo preparo prima, viene, no? La rinascita. Perché aperto questo libro, nella ultima parte, c'è questo tema enorme che prima o poi tutti dobbiamo affrontare. Il processo della rinascita vuol dire quando lasciamo il corpo. Cherubin non la chiama reincarnazione, la chiama rinascita, che è una parola molto più, diciamo, soffice, no? Molto più graziosa, piuttosto che reincarnazione. È bella rinascita, no? Quindi pensavo, prima di leggere qualche riga, sempre sulla ricerca dell'essere psichico, e poi andare a queste parole di Cherubindo su come accade che quando lasciamo il corpo, la nostra anima, che cosa succede e che cosa succede quando poi ritorna in un altro corpo. E quindi tra le tante cose che qui abbiamo, ne abbiamo una marea di favolose indicazioni, tutto, tutto quello che vogliamo sapere qui c'è. Se vogliamo sapere in questo piccolo libro, l'essere psichico, c'è tutto quello che possiamo desiderare di sapere sulla nostra vita, la nostra morte, il nostro ritornare, il nostro rinascere, è incredibile. Quindi, come dicevamo un giorno, non abbiamo scuse, perché ci viene dato veramente tutto. E quindi mi viene una pagina in cui qualcuno domanda a Mer, come è possibile sapere che l'essere psichico è in primo piano? Ecco, magari prima di leggere la sua risposta ci regaliamo qualche minuto di immersione dentro noi stessi. In modo che queste parole abbiano una risonanza e compiano un'azione dentro di noi, non siano solo parole. E quindi chiudiamo gli occhi. E ci lasciamo un momento, come sempre, andare ad un abbraccio della grande coscienza, e cioè della madre. Ci allarghiamo. Ci apriamo come un fiore al sole. Ed entriamo dentro di noi. Lo facciamo come sentiamo, dall'alto della testa, oppure attraverso gli occhi. L'importante è che entriamo Nel nostro corpo. Nel nostro corpo. E scivoliamo giù, giù, dentro, dentro, in fondo, in fondo. In profondità, dentro di noi, ci sono profondità che non conosciamo. Mondi da scoprire dentro di noi. E lì, in questa profondità, c'è qualcosa di meraviglioso da scoprire. La presenza divina dentro di noi. E Sri Aurobindo dice, il senso di essere come liberati da una prigione, accompagna sempre l'emergere dell'essere psichico o la realizzazione del sé superiore. E per questo che si parla di liberazione mukti è una liberazione della pace, nella felicità. La libertà dell'anima non è vincolata dai mille legami e preoccupazioni dell'esistenza esteriore ignorante. liberati da una prigione. E dunque domandano Amer, com'è possibile sapere che l'essere psichico è in primo piano? E lei dice, figlio mio, quando ciò accade, lo si capisce. Finché non si capisce significa che non è venuto in avanti. È come quando le persone ti domandano come posso sapere se sono in contatto con il divino. La domanda stessa è la prova che non lo si è. Perché se lo fossero non porrebbero più la questione. Per lo psichico è la stessa cosa. Quando lo psichico è in primo piano lo si sa e senza alcuna possibilità di dubbio. di conseguenza non si pone più la domanda. E Sri Aurobindo dice, solamente l'aspirazione costante e sincera e la volontà di volgersi verso il divino sono quanto di meglio ci sia per portare in avanti lo psichico. è un problema. Lo yoga è molto spesso una serie di alti e bassi finché non avete raggiunto un certo livello, ma c'è una ragione ben diversa per questo, non si tratta dei capricci dell'anima. Al contrario, quando l'essere psichico va in primo piano e diviene maestro, subentra un'azione fondamentalmente fluida e benché rimangano difficoltà e ondeggiamenti del movimento. Questi non sono più di carattere improvviso o drammatico. Ecco, veniamo al tema che stasera era venuto come protagonista, il processo di rinascita. L'anima nasce ogni volta e ogni volta una mente, una vita e un corpo prendono forma con i materiali della natura universale, a seconda dell'evoluzione passata dell'anima e dei suoi bisogni per il futuro. Quando il corpo si è dissolto, il vitale va nel piano vitale e vi rimane per un po' di tempo. Ma dopo un po' l'involucro vitale scompare. L'ultimo a dissolversi è l'involucro mentale. Infine, l'anima o essere psichico si ritira nel mondo psichico per riposarsi fino all'approssimarsi della nuova nascita. Questo è il corso generale delle cose per l'essere umano ordinariamente evoluto. Ci sono variazioni a seconda della natura dell'individuo e del suo sviluppo. Per esempio, se il mentale è molto evoluto, allora l'essere mentale può conservarsi. Altrettanto può il vitale, purché siano organizzati e centrati intorno al vero essere psichico. Essi condividono l'immortalità dello psichico. L'anima raccoglie gli elementi essenziali delle sue esperienze nella vita e ne fa la base della sua crescita nell'evoluzione. Quando torna a nascere, assume, insieme col suo involucro mentale, vitale e fisico, la quantità di karma che le serve nella nuova vita per fare ulteriori esperienze. L'essere psichico sta dietro la mente, la vita e il corpo sostenendoli. Così dunque il mondo psichico non è un mondo della stessa gamma del mondo mentale, vitale o fisico, ma sta dietro a tutti questi ed è qui che l'anima evolvendo si ritira per l'intervallo tra una vita e l'altra. Se lo psichico fosse solo un principio nell'ordine crescente di corpo, vita e mente alla pari con gli altri e messo da qualche parte nella scala, nello stesso ordine degli altri, non sarebbe l'anima di tutto il resto, l'elemento divino che rende possibile l'evoluzione degli altri elementi, usandoli come strumenti per una crescita attraverso una esperienza cosmica nella direzione del divino. Così dunque il mondo psichico non può essere un mondo fra gli altri, dove l'essere evolutivo si reca per esperienze sovrafisiche. è un piano dove esso si ritira in se stesso per riposare, per una assimilazione spirituale di ciò che ha sperimentato e per rituffarsi nella sua fondamentale coscienza e natura psichica. La condizione delle anime che si ritirano nel mondo psichico è interamente statica. Ognuna si ritira in se stessa e non ha interazione con le altre. Quando escono dalla loro trance sono pronte a scendere dentro una nuova vita, ma nel frattempo non agiscono nella vita terrena. Ci sono altri esseri guardiani del mondo psichico, ma hanno a che fare solamente col mondo psichico stesso e col ritorno delle anime alla reincarnazione, non con la terra. Un essere del mondo psichico non può fondersi con l'anima di un essere umano sulla terra. Quello che accade in certi casi è che un essere psichico molto avanzato talvolta manda giù un'emanazione che prende posto in un essere umano e lo prepara finché l'essere psichico stesso è pronto a entrare nella vita. Questo accade quando deve essere fatto qualche lavoro speciale e il veicolo umano deve essere preparato. Una tale discesa produce un cambiamento notevole di carattere improvviso nella personalità e nella natura. di solito un'anima segue di continuo la stessa linea di sesso. Se ci sono cambiamenti di sesso è generalmente una questione di parti della personalità che non sono centrali. per quanto riguarda il momento in cui l'anima ritorna per la rinascita dentro il nuovo corpo non possono essere formulate delle regole poiché le circostanze variano individualmente. alcuni esseri psichici entrano in relazione con l'ambiente di nascita e i genitori dal momento del concepimento e determinano la preparazione della personalità e il futuro nell'embrione. altri si uniscono solo al momento del parto altri anche più tardi nel corso della vita e in questi casi è qualche emanazione dell'essere psichico che sostiene la vita. bisognerebbe notare che le condizioni della futura nascita sono determinate fondamentalmente non durante la permanenza nel mondo psichico ma al momento della morte l'essere psichico sceglie il lavoro che farà nella prossima apparizione sulla Terra e le condizioni si predispongono da se stesse da notare che l'idea di rinascita e le circostanze della nuova vita come rivalsa o punizione è una rozza idea umana di giustizia che è assai non filosofica e non spirituale e distorce la vera intenzione della vita la vita qui è un'evoluzione e l'anima cresce in esperienza elaborando questo o quello nella natura e se c'è sofferenza è per il proposito di quel lavoro non come giudizio inflitto da Dio o dalla legge cosmica sugli errori o le cadute che sono inevitabili nell'ignoranza alla madre chiedono si dice spesso che i bambini entrano nel possesso del loro essere psichico all'età di circa sette anni che cosa significa questo esattamente Mer dice ciò non è corretto ci sono persone il cui essere psichico vigila sulla loro formazione prima che nascano anche prima che siano nel grembo materno ci sono bambini il cui essere psichico entra in contatto con loro solo al momento del primo vagito ci sono anche persone in cui l'essere psichico viene qualche ora dopo la nascita o qualche giorno dopo o qualche settimana qualche mese qualche anno o mai la madre la madre e Sceo Rubindo dice l'essere psichico non abbandona il mentale e altri involucri a parte quello fisico immediatamente dopo la morte si dice che di solito impieghi tre anni per uscire completamente dalla zona di comunicabilità con la terra sebbene ci possano essere casi di passaggio più lento o più veloce il mondo psichico non comunica con la terra in ogni caso non in quel modo il fantasma o spirito che si presenta alle sedute non è l'essere psichico quello che viene attraverso il medium è un miscuglio del subcosciente del medium usando la parola subcosciente nel senso ordinario non yogico e di quello dei partecipanti di involucri vitali lasciati dal defunto o forse occupati o usati da qualche spirito o da qualche essere vitale di partito stesso nel suo involucro vitale o in qualcosa assunto per l'occasione ma è la parte vitale che comunica e poi continua di elementi spiriti del più basso mondo fisico vitale vicino alla terra eccetera eccetera un'orribile confusione per la maggior parte un miscuglio di ogni sorta di cose che vengono attraverso un medium di luce grigia astrale e ombra molti comunicanti sembrano essere gente che ha appena attraversato un mondo sottile dove si trovano circondati da una edizione migliorata della vita terrena e pensano che questo sia il reale e definitivo altro mondo dopo la terra ma è solo un ottimistico prolungamento delle idee e immagini e associazioni del piano umano da qui il prossimo mondo come viene dipinto dalle guide spiritualiste e altri comunicanti spiritici l'essere psichico al momento della morte sceglie quello che elaborerà nella prossima vita e determina il carattere e le condizioni della nuova personalità la vita è fatta per la crescita evolutiva facendo esperienza nelle condizioni dell'ignoranza finché si è pronti per la luce superiore per il destino che segue alla morte l'ultimo stato di coscienza è solitamente il più importante cioè se al momento della morte si ha un'intensa aspirazione a ritornare per continuare il proprio lavoro allora si preparano le condizioni perché ciò sia fatto ma vedete ci sono tutte le possibilità per ciò che accade dopo la morte ci sono persone che ritornano nello psichico vedete vi ho detto che l'essere esteriore è conservato solo molto raramente così abbiamo parlato solo della coscienza psichica la quale invece rimane sempre e poi ci sono persone per le quali lo psichico ritorna al piano psichico per assimilare l'esperienza che hanno avuto e preparare la loro vita futura questo può richiedere secoli dipende dalla persona quanto più è evoluto lo psichico tanto più è vicino alla sua completa maturità tanto più è lungo il tempo fra una nascita e l'altra ci sono esseri che si reincarnano solo dopo mille anni duemila anni quanto più si è vicini all'inizio della formazione tanto più ravvicinate sono le reincarnazioni e talvolta addirittura proprio al più basso livello quando l'uomo è abbastanza prossimo all'animale va in questo modo gesto cioè non è insolito che alcune persone si reincarnino nei figli dei loro figli così qualcosa così o già nella prossima generazione ma questo è sempre a un livello molto primitivo di evoluzione e l'essere psichico non è cosciente è nello stato di formazione e come diventa più evoluto le reincarnazioni come ho detto avvengono a grande distanza l'una dall'altra quando l'essere psichico è pienamente sviluppato quando non ha più bisogno di ritornare sulla terra per il suo sviluppo quando è assolutamente libero può scegliere di non ritornare più sulla terra quando ritiene che il suo lavoro serva altrove o se preferisce rimanere nella pura coscienza psichica senza reincarnarsi oppure esso può venire quando vuole come vuole dove vuole perfettamente cosciente e ci sono coloro che si sono uniti con forze di un ordine universale e con entità della sovramente o altrove che rimangono tutto il tempo nell'atmosfera terrestre e assumono successivamente un corpo per il lavoro questo significa che dal momento in cui l'essere psichico è completamente formato e assolutamente libero quando è completamente formato esso diventa assolutamente libero esso può fare qualsiasi cosa gli piaccia secondo la propria scelta perciò non si può dire sarà in questo modo o in quest'altro modo esso fa esattamente quello che vuole e può anche annunciare è successo al momento della morte del corpo quale sarà la prossima reincarnazione e che cosa farà e già scegliere che cosa andrà a fare ma prima di questo stadio che non è molto frequente dipende in modo assoluto dal grado di sviluppo dello psichico e dalla speranza formulata dalla coscienza integrale dell'essere c'è anche la coscienza mentale vitale e fisica unita con la coscienza psichica così nel momento della morte il momento di lasciare il corpo esso formula una speranza o un'aspirazione o una volontà e di solito questo decide la vita futura e la domanda a Mer questo è molto divertente può accadere che l'essere psichico non cada nel posto dove voleva rinascere e lei dice se un essere psichico vede dal suo mondo psichico una luce sulla terra può essere che si precipiti lì senza sapere esattamente dove è tutto è possibile ma se l'essere psichico è molto cosciente sufficientemente cosciente cercherà la luce a cui aspira in un posto preciso a seconda della cultura dell'educazione che troverà lì questo accade molto più frequentemente di quanto si creda specialmente in certe cerchie piuttosto istruite una donna intelligente con un po' di cultura artistica o filosofica un inizio di individualità cosciente può aspirare a che il figlio che sta per avere possa essere il più possibile secondo la sua idea o quello che ha letto perciò non è così tanto complicato trovare un posto essendo considerevole il numero degli esseri psichici che nascono costantemente se ogni volta sono da trovare condizioni eccezionali può essere difficoltoso sicuramente ci sono situazioni in cui l'essere psichico sembra essere caduto a capofitto e stordito ma si tratta di sfortuna in tal caso esso ha di solito bisogno di un lungo periodo di tempo per svegliarsi e sfortuna nel senso che probabilmente gli è mancato un certo potere di discernimento o forse deve affrontare certe forze che contrastano la sua decisione e hanno avuto una parziale vittoria su di lui ci sono mille possibilità sapete non si può dire che ogni cosa proceda secondo lo stesso piano ogni essere psichico è differente e ce ne sono infinite di cose ci sono persone che descrivono le vite passate di altri sì lo so dice Mer ho sentito molte cose ne ho sentite di tutti i colori ti guardano e ti dicono tu eri così e così in quella vita facevi la tale e tale cosa bene vi garantisco che non è vero perché io so come uno può sapere dove ha visto una persona e cosa era e com'è non è solo una piccola storia che si può scrivere in un libro quando tu guardi dentro una persona quando hai la percezione precisa del mondo psichico che ti rende capace di riconoscere lo psichico là dove era allora all'improvviso puoi vedere una scena un'immagine una forma una parola c'è una specie di associazione grazie alla quale anche nell'essere attuale di questa persona rimangono ancora certe simpatie attrazioni che vengono da vite precedenti ma come ho detto questi sono momenti della vita e così si possono vedere si possono vedere questi vari momenti ma non si può narrare una vita intera ecco e questo l'abbiamo anche letto l'altra volta c'è un solo modo per venirne fuori e consiste nell'andare in cerca della propria anima e trovarla c'è non si preoccupa di nascondersi non gioca con voi solo per rendere difficili le cose al contrario fa grandi sforzi per aiutarvi a trovarla e farsi ascoltare solo che fra la vostra anima e la vostra coscienza attiva ci sono due tipi che hanno l'abitudine di fare un sacco di rumori la mente e il vitale e poiché questi fanno un sacco di rumori mentre l'anima non lo fa o piuttosto ne fa il meno possibile il rumore vi impedisce di sentire la voce dell'anima l'anima 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 ieri Per percepire l'anima in qualcuno generalmente la mente deve restare molto tranquilla, molto tranquilla perché quando è attiva le sue vibrazioni sono percepite e non la vibrazione dell'anima. Ognuno di voi, dice la madre, no, è la madre, sì che dice. Ognuno di voi dovrebbe essere in grado di entrare in contatto con il proprio essere psichico Non è una cosa inaccessibile Il vostro essere psichico c'è proprio per mettervi in contatto con le forze divine E se siete in contatto con il vostro essere psichico, cominciate a sentire, ad avere una sorta di percezione di che cosa può essere l'amore divino Come ho appena detto, non basta svegliarsi una mattina e dire Oh, mi piacerebbe essere in contatto con l'amore divino Non è così Se attraverso uno sforzo sostenuto, una profonda concentrazione, un grande oblio di sé Riuscite a entrare in contatto con il vostro essere psichico Non vi sognerete più di pensare Oh, mi piacerebbe essere in contatto con l'amore divino Siete in uno stato in cui ogni cosa vi appare essere questo amore divino e nient'altro Trova il tuo essere psichico e comprenderai cos'è l'amore divino Sul piano fisico il divino si esprime mediante la bellezza Sul piano mentale, mediante la coscienza Sul piano vitale, mediante il potere Sul piano psichico, mediante l'amore Quando siamo abbastanza cresciuti scopriamo che questi quattro aspetti si uniscono con ogni altro In una singola coscienza Piena di amore, luminosa, potente, bella Che tutto contiene, che tutto pervade E solo per soddisfare il gioco universale Che questa coscienza si divide in varie linee In varie linee o aspetti di manifestazione Abbiamo materiale per lavorare Abbiamo materiale per lavorare, mi sembra Dunque ci impegniamo in questo In questo lavoro interiore Penso che la cosa più importante Il progetto più importante che possiamo fare Per l'anno nuovo Per l'anno nuovo Questa per concludere Come sono le cose effettivamente L'anima e l'essere psichico Siccome c'è una differenza tra le due cose Non sono esattamente la stessa cosa Sebbene la loro essenza sia la stessa L'anima è la scintilla divina che dimora al centro di ogni essere È identica alla divina origine È il divino nell'uomo L'essere psichico L'essere psichico prende forma progressivamente intorno a questo centro divino L'anima Nel corso delle sue innumerevoli vite Nell'evoluzione terrestre Finché arriva il momento in cui L'essere psichico pienamente formato e interamente risvegliato Diventa L'involucro cosciente dell'anima Attorno a cui è formato E a quel punto è identificato col divino Diventa Il suo perfetto strumento Nel mondo